Qual è il lavoro dei vostri sogni? Quello che sognavate quando eravate bambine e bambini? Se devo essere sincera, quando ero piccola io non è che pensassi molto a lavorare. Quando me lo chiedevano, davo le solite risposte classiche che sapevo facevano contenti gli adulti, l'archeologa, la giornalista, la veterinaria, ma in realtà non avevo le idee chiare e non ero molto interessata al mondo del lavoro e sono rimasta confusa anche per un bel po' di tempo. Una passione, tuttavia, ha sempre accompagnato la mia esistenza, fin dal giorno in cui mia mamma, saggia donna, mi ha portato nella biblioteca comunale a fare la tessera. Da quel momento mi si è aperto un altro mondo e in questa mia incerta infanzia ho capito che un mestiere che avesse avuto a che fare con i libri mi avrebbe fatta felice. Nel mare dei dubbi mi dicevo che fare la libraia o la bibliotecaria non mi sarebbe dispiaciuto affatto, poi però negli anni non ho mai avuto l'occasione di prendere questo amore per la lettura e farlo diventare un mestiere. E va bene così. Poi sono andata in Nuova Zelanda e partire per un anno sabbatico dall'altra parte del mondo ha rappresentato per me una sorta di reset. In quel periodo lavoravo in una start-up di Berlino e avevo voglia di mettere in pausa quella vita per riprenderne un'altra, quella che avevo lasciato da parte. Quando mi sono imbarcata per quell'infinito viaggio verso Oakland avevo in testa un'idea molto precisa. Arriverò lì e cercherò lavoro in una libreria, voglio provarci e voglio riuscirci. E ci sono riuscita davvero. Ho speso i primi giorni a girare a piedi per la città visitando tutte le librerie una per una e alla fine ce l'ho fatta. Non solo sono stata assunta come commessa in una libreria, ma ho anche avuto l'immenso privilegio di lavorare in una libreria di libri antichi e di seconda mano, una di quelle dove i libri avevano le pagine ingiallite e nascondevano dediche sbiadite, fiori secchi e vecchie fotografie. Praticamente il mio sogno. Prima di continuare con il racconto di oggi, però, vorrei ringraziarvi per essere qui ad ascoltare Lapidario. Vi lascio per qualche secondo di pubblicità ricordandovi che solo grazie alla vostra pazienza state contribuendo alle spese per il mio progetto. Quindi, grazie. Eccomi qua. Bisogna dirlo. Non c'è mai una volta in cui io riesco a raccontarvi la storia che vi voglio raccontare senza perdermi i pensieri e divagazioni, neanche in questi piccoli episodi di Lapidario. E questa, ve lo dico già, è una storia che apparentemente non ha nulla a che fare né col podcast né con il suo fratellino minore. In questa storia di vecchi libri e sogni infantili, infatti, non ci sono né tombe né cimiteri. Ci sono però un defunto e un incastro di coincidenze così bislacco e straordinario che, beh, è davvero difficile non convincersi che quel defunto abbia in qualche modo voluto mandare un messaggio dall'aldilà. La libreria dove lavoravo si trova a Davenport, un quartiere di Oakland raggiungibile dal centro con un breve tratto di traghetto. Ed era uno di quei posti assurdi, quelli che più che negozi sono luoghi di passaggio dove vanno e vengono personaggi di ogni tipo. Di quei mesi ricordo delle lunghissime conversazioni seduta sul bancone a bere cappuccino. Succedeva, infatti, che magari uno dei clienti si mettesse a parlare con un commesso e piano piano tutto il resto del personale si raggruppava all'intorno a dire la sua. Siccome era anche una libreria di libri antichi e passati di mano in mano, come vi dicevo, spesso ci si metteva a discutere di qualche libro in particolare o di qualcosa che avevamo trovato dentro un libro. Una delle commesse storiche, Jen, era convinta che la libreria fosse infestata dai fantasmi e di tutti quelli che avevano posseduto quei libri e spesso raccontava storie che, secondo lei, provavano senza ombra di dubbio che qualcosa di inspiegabile avveniva giornalmente tra quei corridoi. Io ci scherzavo su, dicendo che ai fantasmi non ci credevo, però ormai mi conoscete bene e non occorre neanche che vi dica che in realtà ero un po' spaventata e quando di mattina aprivo la libreria da sola avevo sempre l'impressione di aver interrotto una conversazione. Comunque succede che un pomeriggio io sono lì a catalogare i libri e arriva un signore di mezza età che si mette a chiacchierare con Mark, il proprietario. Gli racconta che si trovava a Devonport perché doveva incontrarsi con suo fratello per discutere di alcune questioni familiari. Il padre di David e del fratello, infatti, era morto da qualche giorno e i due avevano appuntamento in un bar poco lontano. Il fratello di David, tuttavia, aveva perso il traghetto che da downtown lo avrebbe portato a Devonport e per aspettare quello successivo avrebbe tardato di mezz'ora. David, di conseguenza, aveva deciso di ammazzare il tempo tra gli scaffali della libreria. Una chiacchiera tira l'altra e David racconta a Mark che suo padre era un ingegnere dell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale e che aveva trascorso un po' di tempo in Turchia, a Gallipoli. Che curiosa combinazione! La libreria aveva una nutrita sezione riguardante le guerre mondiali e ben tre copie di Official World History of the New Zealand Engineers Middle East. Ovviamente David aveva voglia di dare un'occhiata a quel libro che raccontava un pezzo della storia di suo padre e io l'avevo personalmente accompagnato davanti allo scaffale corrispondente dove lui aveva scelto a caso una delle tre copie presenti e poi si era sistemato su una poltroncina e aveva iniziato a sfogliare. Noi commessi avevamo ripreso le nostre attività e a un certo punto avevamo sentito una specie di singhiozzo trattenuto. Io avevo guardato Mark, che aveva guardato Jen, che aveva guardato Martin ma nessuno di noi sapeva cosa fare. David si era alzato dalla poltroncina con gli occhi rossi, visibilmente commosso. Non aveva detto nulla, aveva semplicemente aperto il libro sul bancone e aveva indicato un foglio ripiegato tra le pagine. Che cos'era quel foglio ingiallito? Da quello che ho capito, al termine della guerra il governo neozelandese aveva regalato ai veterani i libri che riguardavano il loro corpo di appartenenza allegandoci un certificato ufficiale dove appunto venivano indicate le generalità e i gradi del soldato. Era una specie di ringraziamento. Ebbene, siete liberi di non crederci ma David stava piangendo perché il nome su quel certificato era proprio quello di suo padre. Avete ascoltato Lapidario, lo spin-off di Camposanto, scritto, condotto e prodotto da me, Julia Depentor. Vi ricordo che se volete sostenere i miei progetti potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi oppure acquistare il mio libro, sempre su Ko-fi oppure semplicemente avere un attimo di pazienza e ascoltare questo breve messaggio pubblicitario che arriva al termine dell'episodio. Vi ringrazio in anticipo e vi do appuntamento a prestissimo. Ciao!